Il presidente della conferenza episcopale italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, ha inaugurato a Pescara il centro casa a Terno, la residenza per persone con disabilità dell'Istituto Don Orione. L'opera Don Orione che oggi inauguriamo risponde ai bisogni di tante persone e mostra il volto più bello della nostra chiesa, ha sottolineato l'arcivescovo di Perugia, città della Pieve, accolto da Monsignor Valentinetti, Arcivescovo Pescara Penne, dalle altre autorità e dal direttore dell'Istituto Don Orione, Renato Di Fiore. Nell'omelia della messa il cardinale ha richiamato poi il dramma della guerra in Ucraina, come ha fatto al nostro microfono. L'inaugurazione di questa bella struttura, un momento di pace in una situazione difficile per tutti noi. E' anche un segno di grande speranza. Noi proprio dobbiamo moltiplicarli questi segni in un momento in cui la gente è molto avvilita. La gente si sta chiudendo in se stessa perché ha paura di tutto, ha paura della guerra, delle volte ha paura anche ad affrontare l'altro, anche se devo dire che nei confronti di mamme, bambini e ucraini c'è stata veramente una bella apertura a prevarso la tenerezza, l'istinto materno. E quindi però noi dobbiamo molto, anche come chiesa, aiutare la gente a superare la diffidenza, la paura. E questo, se noi vogliamo vincere questa terribile guerra, è proprio il momento dell'accoglienza a 360 gradi. D'altronde anche il Papa ha detto fermate le armi, la guerra è una follia. La guerra è una follia perché le armi, è chiaro che moltiplicano le armi. Dipende da quale logica si sceglie. Bisogna credere fino in fondo. Come diceva il professor Lapira, io sono fiorentino, in spe contra spam. Cioè anche se tu non vedi motivi di speranza, è proprio allora che speri. Ognuno di noi cosa può fare? Faccia la sua parte fino in fondo. Quindi noi anche nella mia diocese ora siamo impegnatissimi ad accogliere nelle famiglie e nelle strutture che abbiamo, chi arriva. Direttore, oggi è arrivato un grande giorno. Sì, oggi si inaugura questa nuova residenza per disabili adulti. Siamo qui con le personalità, con le autorità territoriali e con sua eminenza il Cardinale Bassetti appunto per questo evento. E quindi poi da domani si inizia a lavorare a questa nuova iniziativa che per noi è nuova, ma partiamo con un grande entusiasmo. Lei ieri parlava di una vera e propria casa per questi ospiti. Sì, come ho già detto ieri, sarà uno stile di vita familiare. Quindi è una vera e propria casa, dotata però di tutti i confort di cui queste persone hanno bisogno. Quindi hanno una loro camera indipendente, con un loro bagno indipendente, attrezzato per tutte le loro necessità. E poi invece hanno degli ambienti comuni dove possono condividere la loro vita comunitaria. Quindi pranzare insieme, stare insieme, guardare la tv insieme, come si fa in un normale ambito familiare. Un punto importante, un tassello importante per il cosiddetto dopo di noi. Sì, iniziamo questa nuova opportunità per noi e anche per i nostri ospiti. Siamo pronti e speriamo che tutto vada bene in questo ambito.